Riccardo Orioles ti citava Beppe Giulietti, io aggiungo solo un altro elemento che probabilmente è ciò che Roberto ha fatto nella sua carriera, ovvero quello di trovare nuovi giovani, avviarli alla professione giornalistica, dare al loro spazio. Tu con i siciliani, prima con Pippo Fava eri uno di quei giovani, successivamente è come se tu avessi preso quel testimone e hai continuato a creare nuovi giornalisti che tra l'altro sono giornalisti di frontiera, quelli di periferia, molte volte quelli che comunque senza nessuna garanzia data dalle grandi testate hanno la possibilità di raccontare pezzi di territorio rischiando anche direttamente, come ha fatto Pippo Fava, la propria vita, la propria sicurezza. Questa esperienza tu come la vedi legata anche a ciò che comunque il premio Morione dà? Beh, io non ho conosciuto il Morione della RAI, no. Ho conosciuto il Morione di Libera Informazione che è stato un momento altissimo professionalmente, anche politicamente. Libera Informazione è Emanazione di Libera, che è una grossa organizzazione, no? Un'organizzazione di massa. E quindi sì, credo che finalmente abbiamo capito questa politica della formazione, no? Della formazione dei giovani professionisti. Una formazione che è reciproca, perché io a mia volta sono stato formato da questi ragazzi, no? La cosa che diciamo che è un po' rimasta sullo sfondo è la formazione della rete di collaboratori, no? Allora, nel momento più alto, Libera Informazione, poteva contare certamente su Morione, sui giovani professionisti che via via lui andava costruendo, no? Mi poteva contare anche su una rete e sul territorio, che erano, non coincideva esattamente con Libera, però aveva qualcosa a che vedere. Io penso al lavoro di una ragazza come Norma Ferrara, per esempio, che era quella che aveva la tastiera un po' di questa rete, no? Ecco, il processo virtuoso era quello dell'interazione tra dei professionisti duri, no? Proprio molto professionisti, molto artigianali, molto all'antica, no? Che erano questi ragazzi qui, senza zavorre di passato, giornalisti puri, no? E questa larga rete che suonava, che dava il là, che riceveva, che alle volte anche trasformava, no? E credo che... L'esperienza nostra è molto simile, che i siciliani, i siciliani giornali oggi sono sempre stati in una rete. Io credo che noi, senza volerlo, no? abbiamo toccato un tasto molto profondo, che non è da escludere che sia il giornalismo di domani. Io credo che il giornalista come professione continuerà nei millenni, esattamente come il medico. Il medico può scalpellare con uno strumento di pietra oppure può fare un'attacca, secondo del millennio in cui si trova. Ma quello che lo caratterizza è il giuramento di Ippocrate, no? La missione. Così come il giornalista. Io non ho la più paglia di quali viavolerie ci saranno nel nostro mestiere, non tra venti, ma tra tre anni. Ecco, quando io vedo Luca, Danilo, questi qui, mi spavento, no? Mi pare di essere il comandante della baleniera che improvvisamente si vede tagliata la strada dal caccia al torpediniere moderno. Bene, no? Però dico ecco, credo che l'incontro probabilmente maggiore strategiamente che abbiamo fatto è questo, con questa vasta rete di esseri umani, con una cultura, anche con un posizionamento politico non di partito. Penso alla nostra antimafia o ai lettori di libera informazione, che non è già però il progressismo generico della mia generazione. È una cosa in più. in parte però che comincia già a produrre interazione. Mi chiedo scusa, ma è un argomento che mi appassiona. Mi appassiona perché ne sono ignorante, no? E quindi lo sto vedendo crescere e così. Permettimi 30 secondi per consigliare a questi nostri giovani colleghi di restare uniti, di telefonarsi tra 15 giorni, telefonarsi tra un mese, raccogliere le rispettive mail, non fidarsi delle testate. La testata sono loro. Il giornale in cui lavoreranno è un giornale che non c'è, che lo faranno loro, insieme. E Dio sa quale sarà la tecnologia di questo giornale.